La sesta giornata di campionato andata in archivio nello scorso weekend ha registrato un cambio in testa alla classifica del Girona F. La prima posizione infatti ora occupata dall'Avezzano che ha superato di misura il Chieti nel derby tutto abruzzese grazie al gol messo a segno da Casolla al ventesimo del primo tempo. Dopo sei giornate di campionato il primo dato inequivocabile è che nel Girona F regna il più totale equilibrio. Naturalmente è presso per esprimere opinioni ma sembra non esserci una squadra a mazza campionato come lo sono state negli scorsi anni Campobasso e Recanatese. A testimonianza del contesto appena descritto la classifica molto corta con ben otto squadre in tre punti. In questo clima di equilibrio sta trovando continuità il giovane Vasto Girardi di mister Coletti che sta volando a gonfie vele con il secondo posto in solitaria. I numeri dei giallo-blu cominciano ad essere davvero importanti con cinque risultati utili consecutivi di cui quattro vittorie ed un pareggio. Dopo il successo di Tolentino gli alto molisani si sono nuovamente imposti domenica al di Tella contro il Trastevere grazie al bellissimo gol di Gallo dopo pochi minuti. Ruggeri e compagni hanno amministrato il match anche grazie all'inferiorità numerica dei laziali non riuscendo però a chiudere la contesa. Diverse le palle gol sciupate dal Vasto Girardi con il rischio di compromettere poi una partita dominata. Lo sa benissimo mister Coletti che sta cercando di migliorare questo aspetto già nel lavoro settimanale. Domenica si viaggerà alla volta di Porto d'Ascoli. I marchigiani hanno perso la vetta del girone dopo la sconfitta rimediata sul campo del Matese. Finalmente è arrivata la prima vittoria della stagione per gli uomini di mister Urbano. Un netto 4-1 rimonta con lo scatenato Salatino autore di una doppietta. Le motivazioni in casa Matese erano troppo forti. Ancora bruciava il capo subito in casa del Trastevere dopo aver sciupato il doppio vantaggio e con un rigore inventato nel finale. Una vittoria che porta un po' di serenità per affrontare al meglio la settimana e preparare la trasferta in casa del Roma City. Obiettivo dei bianco-verdi sicuramente deve essere quello di avere un po' di continuità e cercare di inanellare una serie utile di risultati. Ha mosso la classifica il Termoli ma ciò non è servito ad abbandonare l'ultima piazza. Peccato perché i termolisi erano andati ancora una volta in vantaggio ma poi non sono riusciti a portare a casa l'intera posta in palio. Rammarico soprattutto per come è arrivato il gol del pareggio della Vastese su un cross lungo. Il portiere di casa ha calcolato malissimo il tempo di uscita ed è stato un gioco da ragazzi per Ricciardo mettere a segno a porta sguarnita. Calendario non semplice per gli uomini di Esposito che affronteranno in trasferta la capolista Vezzano ma in un campionato molto equilibrato ogni partita è una storia a sé. La squadra è molto giovane ma sta lavorando al massimo per colmare questo gap di esperienza. I segnali delle ultime tre giornate sono incoraggianti e l'obiettivo è quello di continuare su questa rotta e muovere passo dopo passo la classifica.